E' certamente un fatto iconico e significativo. Palermo tra le città che trovano un'ulteriore occasione di visita, ancorché ideale, e quindi suscita curiosità in chi non la conosce e quindi favorisce la diffusione di quello che a me piace chiamare il brand di questa città. Il Monopoli poi è legato ovviamente alla storia di tutte le famiglie italiane e quindi c'è anche un motivo di particolare affezione. E' una città in cui non mancano gli imprevisti, ma che spera che le probabilità del futuro possano superare gli imprevisti di oggi.